Siamo con Marianna Vitale, chef napoletana, come mai stasera qui a Tibiz Conferenze? In realtà credo di essere stata invitata come testimonial di un'azienda napoletana di successo, un'azienda sicuramente positiva che grazie a dei determinati circuiti probabilmente riesce ad essere vista all'estero. Si parla di internazionalizzazione e esportazione del Made in Campania. Tu sei una chef stellata, per avere esperienze lavorative sei dovuta anche andare all'estero, prima di ritornare qui a Napoli. Andare all'estero e studiare per poter andare all'estero, perché in realtà io mi ero laureata in lingue per questo. Mi ha aiutato sicuramente la capacità di poter guardare oltre la Campania, oltre l'Italia. Credo soprattutto che il mio campo sia attualmente quello che più si pressi all'esportazione del Made in Italy. L'importante è farlo con criterio.